Nuovi ingressi alla Scuola Militaria Aeronautica Giulio II. A Sigonella formati gli operatori tecnici di bordo del velivolo P-72A. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione aeronautica. Ogni nuovo inizio porta sempre con sé molte emozioni e aspirazioni, sentimenti che hanno accompagnato anche i 38 giovani che a Firenze, nei giorni di martedì 22 e giovedì 24, hanno avarcato i cancelli della Scuola Militaria Aeronautica Giulio II. Un ultimo saluto ai loro familiari è poi via, oltre il cancello che segna il loro ingresso in aeronautica militare per la loro esperienza come allievi di un liceo di ordine classico e scientifico. I neoallievi, vincitori di un concorso che li avessi impegnati nell'affrontare diverse prove, dopo aver ultimato le previste pratiche di ingresso con un po' di emozione, hanno finalmente indossato la loro prima mimetica, pronti a frequentare i licei dell'aeronautica militare, sulle orme degli oltre 400 studenti che si sono già diplomati presso la scuola. I familiari, prima di lasciare Firenze, sono stati accolti dal comandante dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, da cui la scuola dipende, generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, il quale ha ricordato che i giovani allievi fanno ora parte dell'aeronautica militare, una forza armata al servizio del paese, ma anche un'organizzazione considerata da tutti gli appartenenti come una grande famiglia. Da oggi fanno parte dell'aeronautica militare, non solo un'istituzione al servizio del paese, ma per tutti noi, per me, una vera famiglia. Insegneremo loro a fare bene le piccole cose, come rimettere a posto il letto la mattina, perché solo chi fa bene le piccole cose può far bene quelle grandi. E se per caso avranno una giornata difficile, almeno sanno che torneranno a riposare sul letto comodo, un letto che hanno fatto loro. E questo gli darà la giusta motivazione per alzarsi il giorno dopo e fare ancora meglio. Il colonnello Davide Rosellini, comandante della scuola Giulio Due, ha poi illustrato le finalità e le attività dell'ambiente formativo di cui i giovani allievi sono entrati a far parte. Formati nuovi tecnici di bordo sul velivolo P-72A, il pattugliatore marittimo in dotazione al 41esimo stormo. Un'attività formativa destinata agli specialisti dell'aeronautica militare, ma ricordiamo a bordo del P-72A, un velivolo in grado di svolgere una variegata tipologia di missioni, operano anche equipaggi della marina militare. Il corso, terminato nei primi giorni di settembre, ha visto impegnati tre giovani che dopo un percorso istruttivo iniziato a gennaio presso l'86esimo centro addestramento equipaggi, che si trova a Sigonella, hanno conseguito la qualifica di operatori tecnici di bordo. Prima di salutarvi, vi informiamo che oggi, venerdì 2 ottobre, è l'ultimo giorno per partecipare al concorso per l'arruolamento straordinario di ufficiali medici. Se siete interessati, avete ancora tempo per partecipare. Tutte le informazioni ha il link in sovrimpressione. Video News termina qui. Arrivederci alla prossima edizione. Buon weekend. Grazie a tutti.